Bene a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video, io sono Sparks di Brawl Stars Italia E oggi faremo un video particolare perché ho deciso di non doppiare qualcosa di particolare Ma doppiare esattamente il nuovo brawler Parliamo di Lou, oggi doppierò Lou, il nuovo brawler che è arrivato su Brawl Stars Il nuovo brawler cromario che troveremo tra qualche giorno nel Brawl Pass E devo dire che ho scoperto tante cose, ci sono molti riferimenti strani nella voiceline di Lou Nel testo della voce di Lou, infatti si possono trovare riferimenti a bevande, a prodotti Quindi probabilmente sono dei sponsor, non lo so Comunque l'ho tradotto in italiano pur di sembrare una frase diciamo più sensata Inoltre oggi su Brawl Stars finisce anche la season Quindi ragazzi potete dire addio ai vostri trofei, potete dare del benvenuto ai punti stellari che arriveranno E a fine video shopperemo la cassa insieme, quindi la mega cassa e la cassa enorme Adesso però prima di iniziare il video andiamo a vedere quanti trofei Sparks ha perso su Brawl Stars Andiamo a piangere insieme ragazzi, andiamo a piangere insieme Andiamo a che succede Addio Spike, addio il primo, addio Tara C'è lindo Lui, quest'altro, quest'altro ancora, quest'altro ancora, no Tutti, 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 no, no Madonna Pochi, pochi, meno male, meno male, pochi Quanti trofei ho perso? Ne ho persi pochissimi trofei Ho fatto pochi punti stellari, ho perso pochi trofei Quindi in questa season, perché mi sono dedicato a pushare più quelli bassi, fino a 500 In questa season non tocchiamo il massimo ragazzi, non lo sento Andiamo ai 22.000 a questa season, che abbiamo 14 giorni di push Allora, quello che faremo ora Addirittura una cassa gratuita Allora, ora vi apro la cassa gratuita A fine video vi apro le due casse, va bene? Andiamo con la cassa gratuita, vediamo cosa troviamo Tutti in chat a scrivere Oh, va che questa è una premiere, quindi Tutti a scrivere Oh, dai siamo tutti qui Siamo tutti qui che troviamo un'abilità stellare Troviamo una star power in questa cassa Me lo sento, me lo sento tantissimo Star power assicurata Uno Due Non ho cambiato la lingua, sono niente Tre, via Nulla, nulla, come sempre Sparks, nulla Allora ragazzi, facciamo così Iniziamo col video Vi faccio vedere cosa ho fatto oggi Comunque il video è particolare Il video è un... in pratica ho preso tutte le frasi che dice Lu, il nuovo brawler su Brawl Stars Le ho prese tutte e le ho tradotte in italiano Ovviamente ci saranno alcune traduzioni che ho dovuto, diciamo, sistemare Perché in inglese hanno un significato Ma in italiano non hanno significato Quindi è stato veramente difficile tradurle Spero che comunque vi divertiate Perché comunque, non so se vi siete accorti Ma Sparks sta promuovendo l'Italia di Brawl Stars Ci tengo tanto Infatti come potete ben vedere dal sito Brawl Stars Italia Ho dovuto anche trasformare la mia voce in robotica Con alcuni effetti speciali Quindi vediamo cosa ne è uscito ragazzi E detto questo Buona visione Non preoccuparti, torna subito Zio non ha bisogno di riposare Basta giorni Perbacco Accidenti Sei su un sottile ghiaccio amico mio C-c-c-c-cervello è ghiacciato Nudo fino al cono È stata una passeggiata È stata una passeggiata Sei stato fregato Sono un gelo delizioso Succo di lampone Portice di mirtilli Mango tango Un cono trollabile Sono nella zona del cono Sono nella zona del cono Voi amerete il sapore aspro delle mele Con gelo schermata sto vincendo la partita Mantieni lo gelido Provate una palla blitz Zio Lou è qui per voi Sto solo sparando gelo Ora con il 12% in più di contà G-wiz provo la blitz Un dolcezzo gelido che ti terrà in piedi Scimolare sul lato Una nuova e migliorata salsa aromatica Salsa aromatizzata 100% certificata Pieno di vitamina C Ho una goccia per farti scivolare Io ho una salsa Senti che è freddo Vuoi il piaccio con quello? Ho una blitzball Daiee Wow Yahu Sono stato schiacciato Vergognatevi Allora ragazzi io spero che il video vi è piaciuto Spero che non ci saranno tanti haters che diranno Ah questo video fa schifo Oppure ah le traduzioni fanno schifo Ragazzi le traduzioni non sono quelle perfette Perché comunque ci sono termini Nella voiceline di Lou Fanno riferimento a prodotti inglesi A prodotti americani Quindi in Italia non avranno senso Quindi ho dovuto comunque mettere delle frasi Vi assicuro che non è stato facile Perché comunque doppiare non è facile Prima di chiudere come promesso Andiamo ad aprire le casse speciali Le offerte speciali Abbiamo 1.500 2.000 Allora iniziamo con la cassa enorme Andiamo ad aprire la cassa enorme Tutti in chat Oh Stavolta non cambio la lingua Perché oggi abbiamo fatto un doppiaggio italiano Quindi La lingua italiana ci porterà fortuna Perché Sparks Sta promuovendo la lingua italiana su Brawl Stars Quindi tutti a scrivere Oh Vai 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 vi sento Vi sento in chat a scrivere Oh Vai 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 Mi tappo gli occhi 1 2 3 Sì Skip luminoso Non ci... Forza Italia Forza Italia Fratelli di Australia Ci abbiamo fatto ragazzi Il centro italiano Perché comunque abbiamo messo la lingua italiana Doppiaggio in italiano Oggi è rimasto uno Skip luminoso E adesso andiamo a prendere Spero che non sarà un altro gadget Ci siamo? 1 2 Star Power Di Bea Sì La seconda chance Non vedevo l'ora che mi arrivava questa abilità stellare Finalmente E adesso andiamo a prendere l'ultima cassa la mega cassa E qui 2 skip luminosi 2 skip luminosi, mi sento Mi sento che ci sono due skip luminosi, fatemi sentire il vostro incoraggiamento in premiere, dai, dai, oh, ci siamo, ci siamo, oh, due skip luminosi, almeno uno lo prendiamo, dai, 3, 2, 1, un altro skip luminoso, sì, due skip luminosi in due casse, due skip luminosi in due casse, in tre casse, la cassa blu non si conta, in due casse, sì, grande Sparks, grande ragazzi che siete tutti qua in premiere, mi avete portato fortuna, vai, non mi deludere, gadget No, il gadget di Brocco, no, il gadget di Brocco non mi piace, fa schifo, vabbè, poteva andare peggio ragazzi, comunque un gadget, un'abilità stellare in due casse, non è male, no? Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un video molto divertente di Brawl Stars, dove finalmente ho tradotto tutte le voci, la voiceline di Lu, il nuovo brawler Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questo format, se volete che traduca altri brawler, mi raccomando, spolliciate qui sotto, raggiungiamo a meno i 500 like, condividete questo video, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche E ci vediamo stasera a 18 per una live insieme, bella ragazzi!